Partiamo dal fatto che Wanted Cinema, che distribuisce film particolari, film un po' più impegnati, film un po' più interessanti a livello, diciamo, più autoriali, ha portato e distribuirà il 23, 24 e 25 gennaio questa versione di Audition di Takashimike restaurata in 2K nei cinema. Quindi, ora tutti mi stanno chiedendo, ma qua ci sarà, mi sai dire la lista di cinema? Io non ho la sola lista di cinema, dovete semplicemente andare su Google, fare una ricerca se nella vostra città lo proiettano. Io lo spero tanto per voi se vi piace il cinema orientale e di questo genere qua. Vi faccio vedere. Sono stato all'anteprima, c'erano un po' di ospiti, persone accreditate, come me c'era anche Manuel di Broadbuster, che saluto, carissimo Manuel, mi fa sempre piacere beccarlo. C'era anche Andrea di Sciva Produzioni e altri ragazzi del suo gruppo che hanno anche presentato il film e poi regalavano un posterino che io sono felice di mostrarvi. Niente di che, però veramente una chicchetta, questo posterino che metterò giù in cantina. Aspetta che faccio... Che ho cercato di preservare fino al ritorno a casa. Quentin Tarantino lo definisce un capolavoro. Mi sa pure io, mi sa pure io, ma chi sono io per giudicare Takashi Miki? Fin del 1999 racconta la storia praticamente di questa famiglia dove la madre muore. Questa cosa accade subito, quindi non è uno spoiler. E quindi rimangono il marito, vedovo e il figlio piccolino. Passano sette anni, il figlio è cresciuto, è un adolescente, il padre è sempre lì a fare il padre, non ha mai trovato un'altra compagna. Insomma, è già abbastanza drammatico. È già abbastanza drammatico come inizia e già ti mette un po' di... E alla fine il film è un film drammatico fondamentalmente. È un film drammatico che però a un certo punto si trasforma in un horror, ma in un modo particolare, perché rimane comunque un film drammatico fino alla fine. Pur avendo un'aurea horror sul finale. Il film è veramente, veramente, veramente tanto, tanto lento. È molto difficile da seguire per una persona... Grazie Vitto! È molto difficile da seguire per una persona disabituata al cinema, disabituata al cinema d'autore e disabituata, perché forse qualche anno fa il cinema asiatico andava di più, anche all'epoca quando c'era Kitano, che era molto popolare anche in Occidente. insomma, i suoi film hanno anche loro un ritmo abbastanza lento. Questo è un ritmo molto lento, anche se comunque le cose accadono e tutto questo ritmo lento in realtà serve tantissimo, perché il finale è qualcosa di veramente esplosivo e quindi è come se stessi caricando tantissimo una sorta di bomba che deve esplodere a un certo punto. Ma la sensazione in realtà è che non accadrà niente. Cioè, per tutto il film hai sempre la sensazione... È chiaro che noi sappiamo che stiamo andando a vedere un film horror, però se non lo sapessimo avremmo sempre la sensazione di vedere semplicemente un dramma familiare. Il marito a un certo punto, però non si sa per quale ragione, è amico... non si sa per quale ragione decida di fare questa cosa, ma è amico di un produttore televisivo, e decidono insieme, quasi per gioco, di fare dei casting per un film che in realtà sono dei casting per trovare una moglie a questo marito vedovo, perché fondamentalmente è triste e si sente solo. Chiaramente già qua iniziano ad esserci dei temi fortissimi sul tema della donna oggetto, della donna geisha, della donna fondamentalmente schiava dell'uomo. Cioè la donna che deve servire l'uomo fondamentalmente, quindi deve servire l'uomo, e infatti le conversazioni tra loro saranno deve saper fare questo, deve saper fare quell'altro, però deve anche essere colta, però deve anche avere delle doti artistiche, insomma, deve avere un pedigree, e già qua comunque inizia a diventare un po' pesante come film. In più, lui comunque sente di star facendo qualcosa di moralmente sbagliato. Si sente che quella cosa lì è sbagliata, ma la persegue comunque, perché è normale per lui, è normale per l'amico, è normale un po' per tutti. Il casting, il casting per esempio di queste attrici, è una parte abbastanza, forse una delle parti più belle, più interessanti a livello di storia, cioè vengono fuori queste donne di tutti i generi, disposte a fare un sacco di cose, pur di lavorare, oppure di diventare famose. Ed è abbastanza brutto, perché è brutto nel senso a livello morale, è vederle in vetrina quasi, in questi casting, dove gli vengono fatte anche domande inopportune, domande che non centrano molto con l'obiettivo del casting. Infatti si chiama audition proprio perché c'è di mezzo questa audizione, per diventare in realtà non la protagonista del film, che è un film fittizio, ma per diventare un... per trovare una donna a questa persona qua. Dietro a questa specie di commedia un po'... sembra quasi una commedia dove questi due la combinano grossa, ma fanno qualcosa di un po' così birichino a livello morale, con però delle frecciate appunto al modello di società giapponese, con comunque la figura della donna... beh, poi in realtà è questa figura della donna geisha, c'è in tutte le società più o meno. in realtà poi il film dietro a un certo punto ha una parte che non ti aspetti neanche in realtà, troverà una ragazza, una ragazza particolare, una ragazza che capiamo essere una ragazza che forse non era quella giusta, forse era meglio stare lontani da questa ragazza. E verranno fuori, diciamo, delle tematiche di abusi, cioè delle cose veramente tremende, abusi su minori, maltrattamenti, delle cose abbastanza brutte, non vi dico come perché poi è... e poi ci sarà un finale. Anche questo un po' che sembra quasi dissonante con il resto del film, perché il film è un film tranquillo, no? Poi invece alla fine si rivela veramente gore, ma tanto gore e sadico. La cosa che mi ha sorpreso di più è che la parte registrica che ho trovato più interessante di tutte è stata la parte prima, la parte di dialoghi, di ricerca dell'attrice, di conoscenza, perché poi loro faranno amicizia e poi dopo si innamorerà, lui si innamorerà di questa ragazza che ha. e quindi insomma ho trovato veramente una regia pulita, precisa, chiara, cioè proprio un linguaggio incredibile, un linguaggio incredibile, una capacità incredibile nel raccontare ciò che accade in modo chiarissimo. cioè volendo potrebbero non esserci i dialoghi e le parole, per quanto è proprio bravo a raccontare la storia. I tempi sono tempi molto difficili, sono stati difficili anche per me seguire con attenzione una storia raccontata con questa lentezza. però l'ho messo in conto e mi sono, cioè chiaramente ho assorbito tutto questo tempo, l'ho assorbito per quello che era, cioè serviva per dopo, il dopo che non vi racconto. C'è una parte secondo me incredibile, incredibile, incredibilmente bella, nel quale tra la prima parte e la parte che io definirei più infernale, la situazione in cui nessuno vorrebbe finire, c'è un grande lavoro di montaggio e le scene oniriche si mischiano con le scene reali, quasi in un gioco, bellissimo gioco, di salti temporali, in cui sembra quasi che il protagonista veda il futuro nei sogni e il passato si ribalti nei sogni, quindi è davvero interessante questo modo di far finire nel vortice horror il protagonista. Un altro aspetto molto interessante, anche qua cerco di non farvi capire bene di che cosa sto parlando, chi l'ha visto sa a cosa mi riferisco, essendo che ci sono delle dinamiche legate ai traumi infantili, mi è piaciuto molto che un personaggio usasse dei suoni emessi con la bocca, dei suoni infantili, mentre fa delle cose non tanto infantili, come un bambino che tortura una lucertola, qualcosa del genere. L'ho trovato un aspetto psicologico molto bello nel film, perché è come se facendo così cercassi di riappropriarsi di un'infanzia perduta ed è veramente intelligente a livello psicologico. Questa è solo una delle cose che ci sono interessanti a livello psicologico nei personaggi che sono veramente strepitosi, cioè sia il protagonista che lei. Ci sono tante dinamiche e cose interessanti proprio, cioè sono personaggi approfonditi in un modo incredibile. L'ho trovato una cosa meravigliosa, mi è piaciuto anche la sua capacità di creare empatia pure con i personaggi che dovrebbero essere negativi. Cioè noi riusciamo a vedere tutto questo dramma con un occhio molto clinico, quasi da psichiatra, da psicologi, perché loro sono proprio completamente aperti di fronte a noi. Noi sappiamo cosa li fa soffrire, come e perché sono arrivati a quello. Quindi nel momento in cui noi abbiamo i giochi fatti, non siamo però così tanto sicuri di chi sia il buono e chi sia il cattivo. Non ci sono i buoni e i cattivi, ci sono tantissime sfumature. E se tu fai un film così psicologico, approfondendo così tanto i personaggi, ti puoi permettere di lasciare gli spettatori con questa confusione morale su ciò che è accaduto e una marea di domande e cose. È un film estremamente sofisticato, secondo me. Non è un film di intrattenimento, è un film cervelloide su cui pensare. Ecco, un'audition è bello è bello da vedere, perché è girato benissimo. Però è bello pensarci, cercare di capirlo, cercare di rifletterci. Questo è ciò che penso, spero che sia abbastanza, anche perché senza spoiler è molto difficile. Questo è quello che penso di audition. Bellissimo film. Ecco, l'unico consiglio che vi posso dare non andateci a vederlo stanchi, morti. Serve un po' di energia, perché è un film comunque che ha i suoi tempi, serve che... E soprattutto io invito comunque a fare molta attenzione a ogni singola cosa che c'è nel... Quando i film sono così lenti, ma anche così belli, così estetici, le sfumature, dei dialoghi sono così ben curate, quello che ti aiuta ad andare avanti è proprio concentrarti su questi aspetti qua, sull'estetica, sulla cura, sul valore del silenzio, il valore della dilatazione temporale. Cioè, concentrarsi anche su quanto sia quello che noi consideriamo un vuoto sia un pieno, abbia un valore all'interno del film, cioè un momento lungo di silenzio. Nel linguaggio cinematografico anche un silenzio lungo, un dialogo con dei ritmi meno... Ha un suo perché, ha un suo valore, quindi il vuoto ha valore come il pieno. Nel cinema asiatico è evidente questo, cioè loro lo fanno. Chiaramente non è molto nelle nostre corde, quindi dobbiamo capirlo, arrivarci. Il fatto che vengano praticate delle cose particolari, che non sto a dire, su degli esseri umani, in quel caso c'è un... anche lì è psicologia. Questo è un film iperpsicologico. Quando tu vai a intervenire sul fisico di un'altra persona in quel modo, in quanto donna, stai facendo un ribaltamento dei ruoli. Così, come lei riduce e come ci si sente quando sei soggiogata, quando sei molestata, quando sei sempre in quella condizione lì, quindi non è a caso che vengano fatte certe cose e secondo me se uno si mette lì e se la studia bene, anche tutti gli altri tipi di interventi o cose che accadono nel film sicuramente hanno dei significati che però chiaramente non è facile cogliere. Quella cosa così invalidante è la volontà di ridurre l'uomo a una condizione di inferiorità, una sorta di revenge, una sorta di revenge, è capito? C'è un discorso profondamente legato alla violenza sulle donne, insomma tutto questo tema qua.